Buona serata per i ritrovati a punto di incontro ed è un piacere tornare a incontrare in questa occasione un nostro giovane campione così poter parlare anche un po di sport di ciclismo in modo particolare perché qui con noi Niccolò Bonifazio benvenuto Niccolò grazie per aver accettato il nostro invito una buona serata a te un saluto allora intanto importante avere poter contare nel settore del ciclismo su un campione vero su un professionista qua del nostro territorio adesso corri con i colori della total direct energy dico bene sì 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 quindi questa è la squadra e ultimamente che cosa che cosa stai facendo che cosa che cosa ti prepari anche siamo nell'ultima settimana della stagione oggi ho fatto il mio ultimo allenamento duro e spero che venerdì sabato e domenica nelle ultime tre corse stagionali riesco ancora a ottenere qualche buon risultato ecco c'è stata l'ultima corsa che è stata un po sfortunata nel senso che ormai ce l'avevi fatta di su quasi all'arrivo poche poche centinaia di metri dall'arrivo c'è stata questa caduta sfortunata possiamo dire sì eravamo la coppa bernocchi una classica italiana premondiale ero messo in buona posizione per giocarmi la corsa e è capitato il peggio sono caduto e dispiace un po per tutti perché in primis per me perché è un obiettivo e ci rifaremo l'anno prossimo cose che succedono comunque bisogna in qualche modo di mettere in conto anche se so che ti sei giustamente arrabbiato diciamo anche perché essere ormai al traguardo vedere la vittoria indubbiamente rende tutto molto più fastidioso si calcolando che è la prima volta che cado negli ultimi 300 metri ci sta dai vent'anni di vent'anni che vado in bicicletta può capitare un'esperienza nuova anche quella da mettere da mettere nel cassetto ma dobbiamo pensare ai risultati a continuare a pedalare allenamenti duri che tra l'altro fai nel nostro territorio quindi insomma sono le nostre valli il tuo terreno di battaglia normale diciamo di preparazione per lo meno sì le nostre zone sono perfette per l'allenamento e come dice il cartello all'entrata d'imperia c'è miglior clima d'italia e negli anni 80 90 tutte le squadre più importanti venivano in ritiro a diano marina e era anche in ritiro permanente in pratica io sono in ritiro permanente infatti quando mi chiedono di andare in ritiro da altre parti magari in spagna o da altre parti non è che sia molto contento perché è un clima migliore di qua è difficile trovarlo e sarebbe bello magari anche rilanciare il nostro il nostro territorio e soprattutto per queste cose anche far capire insomma un po' per carità i ciclisti che si devono comportare bene ci mancherebbe rispettando le regole come fai tu nei tuoi allenamenti ma anche le persone di essere un po' pazienti perché quando si vedono dei ciclisti sulle nostre strade dobbiamo anche capire che insomma magari fra questi c'è un campione come Nicolò che si sta allenando e quindi che porta in qualche modo anche la bandiera di questo territorio no? sì purtroppo non abbiamo molte strade ce n'è solo una che è l'Aurelia bisogna cercare di condividere la strada andare più d'accordo possibile con tutti nel rispetto delle regole sia per i ciclisti che per le macchine molte volte i ciclisti io io sono ciclista però prendo le prendo le parti agli automobilisti perché certe volte i ciclisti della domenica non è che non professionisti non rispettano molto le regole prima magari di prendere una bici ci vorrebbe un po' di educazione stradale a stare in strada anche per i per i corridori amatori per evitare magari certe situazioni ecco e questo è importante che tu lo dica soprattutto un po' come educare anche i nostri giovani da un da un giovane un insegnamento civico direi di tutto rispetto importante sì bisogna essere sempre cioè abbastanza coerenti ecco si sta in mezzo alla strada si provoca qualcosa e sia da una parte che dall'altra bisogna trovare una via di mezzo un compromesso insomma ricordarsi che la strada di tutti via quindi nel senso più lato del termine poi speriamo che successivamente inizino i lavori per la pista ciclabile ormai ci siamo infatti e sarebbe già un bel problema perché sarebbe già una bella soluzione perché il tratto di strada da andora fino agli aregai fino sì fino agli aregai è molto molto stretta la strada tante curve tanti incroci e risolverebbe tanti tanti problemi ecco e quindi saresti un un fruitore della ciclabile diciamo l'aspetti con con ansia beh sì ci sono da quasi tutti i giorni da quando è stata creata quindi vai già nel tratto diciamo sì 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 perché la strada è davvero pericolosa ecco e anche lì comunque ci vuole criterio di nuovo per i pedoni per le biciclette capire di non stare a passeggiare su quella corsia che è riservata alle biciclette perché sennò anche lì andiamo a creare problemi no sì 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 questo questo è forse funziona meglio però lì lo capisco questo va beh ma quello non è un problema dai almeno in pista ciclabile che qualcuno rispetti infatti dove deve stare ecco e poi senti anche ciclista di di buon cuore di animo perché di recente sei stato insegnato della bandiera io faccio la mia parte ad accademia cronos so che non potevi essere presente proprio per i tuoi costanti allenamenti giustamente ma è stata la tua compagna giorgia che ha ritirato questo questo premio per un gattino salvato e così com'è andata questa storia sì e mi stavo allenando sulla salita di civezza e quando sono arrivati in cima mi mancava un po di acqua nella borraccia e ho deciso di fermarmi alla fontana e mentre che ero lì ho sentito dei lamenti subito non avevo capito di cosa si trattasse e io pensavo addirittura una persona perché era proprio un verso strano e allora mi sono avvicinato piano piano sono andato un centinaio di metri cinquanta metri più in su e piano piano ho capito che non era qualcosa di grave ma era un semplice animale quindi in mezzo alla boscaglia praticamente sì sì era proprio non si vedeva non si vedeva si sentiva solo ho detto proviamo a vedere di cosa si tratta ecco poi mi sono addentrato un po' nella boscaglia vestito anche con queste scarpe difficile sono anche un po' i roveti un po' di robe e alla fine ho scoperto che era un piccolo gattino che probabilmente era stato abbandonato e e così com'è andato allora ho cercato di prenderlo ma lui scappava 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 siamo stati circa una trentina di minuti fino a che non si è stancato e si è arreso ecco e anche perché lasciarlo lì e quindi che hai fatto nella maglia no lo nella maglia era un po' allora l'ho tenuto in mano fino da civizza fino l'ho portato alla mia ragazza che ha subito preso cura sempre subito presa cura di lui e niente adesso ci fa compagnia e siamo molto contenti quindi un bel tragitto anche anche lì il coraggio per salvarlo ma anche poi per riuscire a portarlo a portarlo via sì ho saltato una mezz'ora di allenamento però è stata una bella cosa ecco ci tiene davvero compagnia e beh questo è un altro bel segnale anche perché insomma un po di umanità un po di affetto anche per i piccoli quattro zampe cani o gatti che siano è un segno comunque sempre sempre molto positivo e adesso avrei questa bandiera da aggiungere diciamo ai tuoi ai tuoi trofei potremmo dire sì è davvero una bella cosa e c'è stata anche un po di cosa mediatica dietro però a me è sembrato un gesto normale penso che l'avrebbe fatto chiunque perché magari devo ancora capire dove dove è arrivato questo gattino spero che non sia stato abbandonato lì da qualcuno perché è appunto perché sarebbe stata una bella cosa magari l'hanno proprio buttato la in mezzo alla boscaglia per disfarsene quindi sì perché era veramente piccolo è l'opposto di quello che hai fatto tu salvandolo quindi per quello che dico non proprio da tutti perché ahimai purtroppo oggi c'è poco rispetto per gli esseri umani figuriamoci per gli animali quindi quando ci sono segnali belli positivi che si possono trasmettere ai giovani credo che meritano anche un po di risonanza mediatica no sì è stato per me è stata davvero una cosa normale normale ecco però per tante persone vedere un gesto del genere è stata una bella cosa diciamo che funziona anche perché lo ha fatto un personaggio nel senso che magari l'avesse fatto un altro ragazzo si sarebbe così girato un po su facebook sarebbe finita lì facendolo tu che hai comunque diciamo un ruolo di personaggio pubblico hai dato sicuramente più risalto a questa cosa ma meglio perché almeno è passato come dire un messaggio credo importante sì è stato è stato rituitato da davvero non mi aspettavo una cosa del genere da quasi tutto il mondo sì ancora l'altro giorno un sito giapponese che ha chiesto informazioni su su in inglese su questa vicenda io glielo date è stata davvero una bella cosa speriamo che serva per altre persone per fare dei gesti del genere dovrei aggiungere l'efficio di un miciotto sulla maglia di gara a questo punto può darsi che ti porti bene sì sarebbe bello sì e beh comunque allora adesso ultime gare della stagione anche a riconoscimento come abbiamo detto di accademia cronos che comunque un ente molto importante di livello nazionale lo sai è un ente anche di ricerca di tutela ambientale quindi vuol dire che insomma in parecchi appunto come stavi evidenziando tu si sono accorti di questo gesto e lo hanno voluto in qualche modo premiare sono contento di questo quindi questa bandiera e vediamo di cercare di continuare a fare gesti del genere che sono sempre sono sempre bello quindi in qualche modo essere anche tu un po testimonial dell'ambiente si fa tanto parlare di cercare di salvare questa nostra madre terra insomma appunto anche tu come dice lo slogan hai fatto la tua parte in qualche modo e pensi di continuare ovviamente a farlo sì sì sicuramente non mi tirerò indietro quando ci saranno dei gesti del genere da fare e allora che dire ci rivediamo magari dopo le ultime gare facciamo un po di punto della situazione fino adesso come sta andando sì quest'anno è stato un anno difficile è stato l'anno che ho fatto più corse circa 80 sono andato bene verso la metà la metà della stagione mi hanno convocato quattro giorni prima per il tour de france e ho fatto un bel tour de france anche perché è stato il mio secondo grand tour sono veramente contento per per i risultati ottenuti la e il resto della stagione è andato bene ho fatto sette vittorie e sempre piazzato nelle corse nelle corse importanti e penso che dopo sei anni sia il momento di cercare di fare veramente un salto di qualità e sto cercando di lavorare bene già da adesso che siamo nella nella fine della stagione per preparare bene l'anno prossimo vediamo se si riesce a fare questo questo gradino ecco cosa cosa aspiri che cosa punti sicuramente vincere delle corse world tour ne ho già vinta una tante volte piazzato secondo terzo e vediamo se prossimo anno riusciamo a fare dei buoni risultati la magari un piazzamento in una grande classica e che sia una milano sanremo un giro delle fiandre o altre corse del genere ecco delle corse veramente importanti perché penso sia il momento di fare questo gradino e noi naturalmente te lo auguriamo dal cuore diamo appuntamento allora poi a tracciare un bilancio e anche ulteriori come dire appuntamenti futuri ti lasciamo adesso concludere questa impegnativa stagione perché tu stesso ci hai detto appunto 80 gare sono comunque davvero tante è faticoso voglio dire non è non è proprio come passeggiare alla domenica in bicicletta come dicevi tu ciclisti la domenica sono un'altra cosa via si è calcolando i 160 170 chilometri di media corsa solo di gara ci sono circa 15 mila chilometri altrettanti di allenamento vivi in bicicletta non mi godo molto la riviera come fanno gli altri ciclisti amatori però ecco è uno sport difficile soprattutto ultimamente perché quando sono passato io professionista il livello era molto alto ma non come adesso adesso negli ultimi due tre anni abbiamo avuto un incremento incredibile e vediamo dai di continuare così sono riuscito a reggere a reggere questo colpo e proviamo a fare qualcosa in più ecco e allora coraggio e tutte le opportunità le possibilità per farcela la tua grinta e anche la tua grande passione perché poi prima di tutto oltre alle gambe ci vuole il cuore come sempre come in tutte le cose ricolo sì quello è molto importante sicuramente senza la passione non sarei dove sono adesso perché certe volte questo lavoro va oltre la passione bisogna essere veramente veramente indirizzati nel in questo sport e precisi soprattutto perché non si può più sgarrare non si può più fare niente bisogna essere concentrati tutto l'anno non si improvvisa più ormai anche in questo settore assolutamente assoluta ci vuole grande impegno grande preparazione grazie grazie a nicolò bonifazio per essere stato qui con noi il nostro naturalmente è un arrivederci con l'auspicio che tutto possa andare per il meglio che nicolò possa coronare i suoi sogni anche lasciamolo dire un po egoisticamente anche per noi per poterci un po vantare in senso positivo del nostro campione dianese sempre più campione grazie nicolò grazie grazie a voi è un arrivederci a te e al pubblico buona serata